Allora i guanti di Sorrentino oggi sono molto particolari perché è un'iniziativa questa del portiere del Chievo Verona per celebrare i suoi 15 anni di carriera da oggi per 15 partite indosserà dei guanti personalizzati cosa vuol dire? Che ha chiesto sui suoi social ai suoi fan di suggerirgli delle frasi interessanti lui sceglierà la più bella di domenica e domenica e la stamperà sui suoi guanti qui vedete quella che ha scelto per oggi che è la prima sei un esempio di padre e uomo di sport il messaggio è di Carlo Malandra e lui Sorrentino se l'è stampato sui guanti quindi lo vedete l'iniziativa si chiama in campo coste, è divertente, noi ve la proponiamo proprio perché è curiosa e divertente insomma per battere il Chievo oggi la Sampdoria dovrà far gol a Sorrentino e anche a tutti i suoi tifosi ti faccio vedere anche...